Signori, bentornati al podcast Tree & Drink, il podcast con la birretta e l'aspirina in mano, però non tutte e due insieme contemporaneamente, se no so cazzi amari. Io ho l'aggeggio per tenere la schiena dritta, perché cervicali, signori, cervicali l'età, mi sono alzato con proprio il classico mal di testa da cervicali, e noi, signori, siamo ancora in attesa di una protezione per il malware, così noi la lanciamo lì, chissà, sa. Ah, salvateci, salvateci perché ne abbiamo bisogno, però se non ci date il via, niente, continuiamo così, io davanti ho la Red Bull, piuttosto che con la birretta faccio un po' di sponsor, volesse mai il signor Red Bull anche lui, insomma, io insomma ne consumo a quintali, insomma, il signor Red Bull se vuole, noi siamo qui, siamo in vendita. Nel frattempo, prima di lanciare la sigla, sono usciti le statistiche su Spotify, sia dal punto di vista di ascoltatore che dal punto di vista di podcasters, e, cioè, da parte mia, e penso anche da parte tua, attore, volevo ringraziare tutti coloro che dedicano un'oretta del loro lunedì di merda, solitamente, ad ascoltare questi due poveri straccioni in preda a ogni tipo di dolore fisico e morale, e perché i dati sono veramente belli, insomma, siamo in crescita e inaspettata, perché poi, ragazzi, ribadiamo, noi ci si trova qua senza preparare niente, una volta a settimana e si tenta di parlare con un certo stampo di NBA. Alla fine è quello. Eh, che dovremmo fare? Non siamo giornalisti, non siamo professionisti, non siamo talent di Sky, però, insomma, ci mettiamo un po' di allegria, un po' di passione, un'oretta di avversione, quindi lo dico principalmente, ancora una volta, al signor Red Bull, insomma, noi siamo qua, e vedi che siamo in crescita, c'è questo efficientamento, a noi piacciono le stats, e comunque ringraziamo tutti i nostri amici, ascoltatori e fans, grazie mille, fans nel senso di, proprio di ibuprofene. Ma se anche l'ibuprofene volesse in qualche modo venire a sponsorizzarci, io ho fatto i calcoli, Tore, ho speso 150 euro in medicine nel mese di novembre. E io vedi che li tengo qua, il signor Ibuprofene, il signor Tachiflutec. Tachiflutec, tra l'altro, io, nelle mie live Twitch, almeno l'anno scorso, ne bevevo uno a live, quindi, insomma, dovrebbe già avermi chiamato. Nessuno ci chiama, però, ripeto, siamo in vendita, quindi medicinali, bevande, vestiti, ci rimettiamo, eh. E così lanciamo l'hashtag veri puttani, noi, veri puttani. E oltre ad aver lanciato l'hashtag, lanciamo anche la solita sigla. Siamo di nuovo qui, dopo la sigla, noi veri puttani. Anche perché, insomma, è giusto darsi anche noi uomini degli epiteti in questo periodo, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo, e quindi come classe, proprio come genere. Ce lo meritiamo come genere. Vabbè, vabbè. Allora, la stagione NBA va avanti. Questa è l'ultima puntata, in realtà, prima delle Final Four di Las Vegas dell'In Season Tournament, signori. Esperimento che io personalmente ho gradito, anche se poi abbiamo visto quell'H-Drammond dei Celtics sul più 30, qualche minuto dalla fine, che ha del ridicolo. Però è giusto così, cioè, vaffanculo. Ma chi lo ha partorito? Chi lo ha partorito? Eh, allora, dovevano... Mazzullaccio. Mazzullaccio. Mazzullaccio, perché con questa storia mi ha eliminato di Orlando Magic, maledetto Mazzulla. Eh, se l'ha partorito lui, non poteva altro che essere ridicolo, no? Cioè, d'altra parte. Però, allora... Mazzulla perché è di Mazzulla. Cazzarola, però, allora, se fai una roba del genere, vuol dire che alla fine ci tieni. Cioè, la NBA ha messo in piedi una cosa, per cui i giocatori, cioè i giocatori, lo staff, poi alla fine, le franchise, perché alla fine il premio va anche allo staff, che non necessariamente piglia milioni e milioni di dollari. Cioè, ragazzi, c'è poco da fare. L'NBA ha partorito un miracolo, senza stravolgere niente di quella che è stata l'NBA storica, aggiungendo queste robe qua. E il Mazzullone ci dà le soddisfazioni di fare l'H Dramond sul più 30. Grande Mazzullone. Mazzulla vuole i soldi, capito? Ed è chiaramente il favorito, tra l'altro. È precario, c'è Cassel dietro con la lupara appuntata. Lui si sente sto fiataccio di Cassel sul collo e dice, ma, insomma, prendiamoci 500 mila dollari o quel che sono. Scappiamo. Esatto, scappiamo via. Ci avrà ancora probabilmente il processo per aver urinato per strada, in corso, a pagare la multa. Non lo so, no, è bellissimo, però, invece, questa roba della ultima giornata in cui è stata questa storia, per cui il tiebreaker era relativo alla differenza punti e quindi c'è stata stare in corsa a far più punti possibili. È bello perché si vede gli americani, finalmente, che si trovano davanti a una roba che noi qui in Europa, a livello di competizioni calcistiche, conosciamo perfettamente. Invece là no. E quindi, insomma, alla fine, vedi, il fine giustifica i mezzi. Anche se loro parlano di rispetto del gioco, qualcuno si incazza. Ah, ma fambrote. E però, esatto, cioè, perché se no, altrimenti è come l'altra sera, quando i miei walkie bucks, lo ricordo esattamente contro chi, non hanno difeso regolarmente sopra di tre, si sono beccati la tripla del pareggio all'ultimo secondo e poi sono andati all'overtime e hanno perso. Cioè, bisogna essere pragmatici, ragazzi, se sei sopra di tre e c'è l'ultima azione per gli avversari, devi fare fallo. Cioè, se no sei una fama. Ma anche Adrian Griffith. Stesso identico discorso. Esatto, cioè, siete delle falle. Ma se la tripla di Oggren magari era un po' più difficile perché esce dal blocco, tira subito, magari rischia addirittura di fargli fallo il canestro, quindi, boh, se la mette, bravo lui. Ma l'altra sera, non ricordo però purtroppo contro Chicago. Con Chicago, esatto. Cioè, poi tra l'altro Chicago, che non aveva Ederozza, né nella VIN, la tripla di Caruso. Cioè, difendi un'azione permettendo un tiro a tre punti che loro sistematicamente ti fanno. Bisogna essere pragmatici, bisognava far fallo e così vincevi la partita. E qui si vede, ma a parte che ha un'abitudine abbastanza diffusa, però qui si vede anche l'inesperienza di coach Griffin, che avevamo già infamato la settimana scorsa, per il quale non sappiamo se mangerà il panettone o meno, anche se comunque è facile che sia, anche perché comunque nel torneo di in-season i Bucks sono anche loro dentro e quindi hanno le loro chance, ci mancherebbe altro. Anzi, su gara secca, quando hai Lillard e Giannis, probabilmente parti favorito. Però il discorso fa ridere, insomma. Gli americani, che non ci si erano mai ritrovati, adesso si trovano anche a fare i conti con questi differenziali punti, a dover fare i biscotti o cose simili. Probabilmente sarà una roba sulla quale ci metteranno le mani già dall'anno prossimo, perché qualcuno si è un po' incazzato. Secondo me è abbastanza regolare, normale. Niente toglie, all'ottimo in-season tournament. A oggi, e da oggi in poi diventa interessante, perché sono scontri retti, quindi si può già dire che l'esperienza è positiva. L'avevamo già detto, noi eravamo stati tra i primi a sposarla, cioè non toglieva niente, aggiungeva solo, quindi che male c'era. Ed effettivamente ha aggiunto, quantomeno una serie di belle partite, è un po' di sentimento. È una Final Four che ci godremo. È una Final Four che ci godremo. E tutti i giocatori vogliono andare una settimana a Las Vegas, cinque giorni, per fare la Final Four, ma soprattutto per godere. Perché questo poi è il tema finale. Sono pieni di soldi, stanno lì cinque giorni, sì, devono anche giocare due partite. Le onoreranno per The Love of the Game, però nel contempo si giocheranno anche un bel po' di dollaroni. Sicuramente alle slot, a qualche discoteca locale, insomma, un bel posto Las Vegas. Se hai soldi, è un posto meraviglioso. Se non li hai, come quando ci sono andato io, fai una cena All You In It, con l'idea di spaccare, e dopo corri in bagno e ci passi la notte. Che bello, che bello. Spesso è stata una mia notte a Las Vegas. Paura e delirio. Esatto. Per il water. Paura e delirio. Per me è solo bestemmia. È un'immagine che porterò con me per le prossime puntate di questo podcast. Te la posso aggiungere, cento e passa euro, la scena All You In It a testa. Eravamo in due, quindi. Tutto per andare al bagno in tempi super record. Che spettacolo. È un po' come era che girava quest'estate la cena di pesce a Gubbio. Porca miseria. Con la roba lì. Era un po' meno estretta. Sì, dai. Che spettacolo. Va bene. Allora, prima di andare su temi per cui il titolo è abbastanza esplicito, cioè Rudy Gobert, Defensive Player of the Year, la MVP Race, così facciamo un po' di nomi, e il futuro di Clay Thompson, di cui si sta parlando in questi giorni. Poi si parlerà di tutt'altro, perché alla fine siamo fatti così. Io vorrei porre il focus sul ritiro di Terrence Ross. Cioè, Terrence Ross... Terrence Ross si è ritirato a 32 anni. Free Terrence Ross, ma non così free Terrence, cazzarola. Ma vieni in Europa. Fai come Kemba, cazzo. Ti fai due, tre anni in Europa. Evidentemente è uno di quei giocatori per cui Patrick Beverly aveva detto, o Patrick Beverly, o Draymond Green aveva detto che al 95% dei giocatori non gli interessa di giocare a basket. Effettivamente si è fatto i suoi soldi, si è fatto la sua carriera, e adesso vive di rendita affinché morte non ci separi, immagino. Però, oh, Free Terrence Ross è talmente libero che si è ritirato. Ma infatti te eri stato un grande fautore della campagna Free Terrence Ross. Il giorno che si è liberato, tempo, mezza stagione, ha scelto di smettere. Quindi evidentemente stava anche bene a Orlando a non fare una sostanziale sega a livello di importanza. Se n'è andato lui, tra l'altro, e gli Orlando Magic sono partiti a 2000. Cioè, incredibile. Cioè, probabilmente abbiamo sbagliato percezione su Terrence Ross dal giorno 1, diciamoci la verità. Però, vabbè, che ti devo dire, non credo neanche... Oddio, vabbè, i soldi ne avranno messi da parte. Sì, parlavano di... Parlavano di 91 milioni di dollari che è riuscito a fare durante la sua carriera. Comunque da 11 di media in NBA, campione nella gara di schiacciate. Insomma, alla fine il suo... La sua carriera, ribadisco, l'ha fatta. Solo che 32 anni significa che proprio non hai voglia. Sì, perché magari tra qualche mese a qualche contender da buyout avrebbe potuto far comodo. Scorso anno, comunque, quando lo prese Phoenix, aveva delle prospettive, anche vedendoli in campo, di poter essere utile. Poi, insomma, la run playoff dei Sanze è andata come è andata e non necessariamente per colpa sua. Però è il tipo di giocatori, ad esempio, che... Non lo so, per Boston, faccio un nome, al minimo, a livello playoff, sarebbe potuto essere utile perché comunque è uno di quelli plug and play, no? Te lo tieni magari in fondo alla panchina, poi se ti serve lo butti dentro e magari ti fa anche dei punti decisivi. Però è andata così. Lui ha scelto proprio di dire basta. Cioè, poteva rimanere, come dire, sul Trespolo ad attendere, magari qualcuno lo chiamava, no? Ha detto, va a faccio. E quindi adesso è libero, libero di... Di andarla in switch. Esatto. Oppure, non lo so, di camminare nei pascoli del signore, come è che si dice? Insomma, andarla su. Campi Elisi. Nei Campi Elisi. Vabbè, insomma, Tyrese, sì, Tyrese, Terrence Ross, Terrence Ross, grazie per la tua ottima carriera, grazie per questi ultimi due anni, tre di Free Terrence Ross, mi hai dato del content. Ma noi ci abbiamo creduto, insomma, è giusto lo saluto. Io ero un po' fan. Bravo, bravo Terrence. Bravo Terrence. Prezione anticipata di Omona, neanche gli statali, di loro, alla fine di Omona, 32 anni. Il vero, il vero lavoratore alle poste, Terrence Ross. Otto anni meno di me, ragazzi. Posto fisso, Orlando, senza rompersi mai le balle più di tanto. Nel momento in cui c'è da mettersi in gioco, no, no, vado in pensione. Baby pensione. Apposto. Ottimo. A dividerci a tutti, bravo. Lo farei anch'io, potessi lo farei anch'io. E per uno che si ritira, c'è invece uno che tra sette partite rientra e si chiama Jamorant perché Memphis ha vinto nella notte contro Dallas, priva di Doncic. Tra l'altro, congratulazioni a Luca Doncic per la nascita del Lucchino Junior. Memphis ha vinto con Dallas e tra sette partite arriva a 25 e quindi ci sarà il rientro di Jamorant probabilmente il 20 di dicembre contro dei New Orleans Pelicans che insomma per il momento hanno un record più che positivo perché sono 11-9 ma sono ottavi. Quindi insomma, solita squadra che deve divincolarsi da tutta una serie di sfighe e infortuni per riuscire a fare qualcosa. Pelicans ma anche Memphis in questo momento. Rientro di Jamorant quindi per il 20 di dicembre. Pensi che Memphis debba darla su? O pensi che Memphis debba comunque provare? Perché alla fine sono 5-20 e 13 perse. I Warriors sono 9-10 perse attualmente decimi e questa sera perché stiamo registrando sabato 2 alle 14.30 circa ci sarà lo scontro diretto con i Clippers per il decimo posto. però non sono così indietro cioè alla fine se riuscissero a vincere delle prossime sette tre partite tre-quattro partite magari tre poi con rientro di Morant e rientro di Smart e magari rientro di Brandon Clark perché non provare ad agganciare il treno play-in per poi essere realmente una mina vagante. Secondo me è difficile che vincano le prossime tre partite su cinque su sette non so qual è detto perché comunque è una squadra abbastanza inquietante in questo momento qua per via delle spighe beh ok i Pistons prima o poi smetteranno di perdere cioè io già contro i Lakers ho detto questa è la serata buona per i Pistons perché non vincono da 12-13 partite e invece i Lakers ce l'hanno fatta almeno una in quella striscia di tre una peggio e l'altra quella dei Pistons sono a 16 sconfitte consecutive in questo momento erano partiti una roba incredibile erano partiti due vinte una persa e poi le hanno perse tutte e io qui alla prima puntata stagione bellissimi Pistons stessa roba è comunque San Antonio è 14 sconfitte di fila erano partite tre vinte due perse e poi da lì le hanno perse tutte tutte eh ragazzi ma questo questo è l'NBA e poi oddio sui Pistons vabbè lasciamo perdere però squadra strana perché i valori teorici ce li hanno sono entrati in un buco nero però a prescindere da quello su Morente io dico perché darla su subito nel senso è la situazione ideale per Morente perché lui rientra probabilmente con la voglia di vendetta con la voglia di far valer che di far vedere che vale e è l'occasione per dimostrare al mondo che è uno dei migliori giocatori del mondo come due anni fa ci si prospettava che sarebbe potuto divenire cioè se il rientro di Morente riporta questa squadra non dico al play-in ma quantomeno a poter lottare per arrivarci perché una partenza simile è una partenza tosta da recuperare sulle 82 partite però non è che i Lakers per dire lo scorso anno avevano fatto saranno state un record tanto diverso a questo punto della stagione forse non so se ti ricordi partirono 1-9 2-10 2-12 esatto quindi nel senso tutto è possibile e misuriamo qual è l'impatto di Morente in una squadra che comunque è anche decimata dagli infortuni e lo sappiamo sicuramente darà una scossa all'ambiente e speriamo si faccia trovare pronto insomma è una bella un bel punto in più di interesse che la stagione acquisisce altrimenti i Grizzlies li possiamo considerare una squadra tappetino perché quello sono in questo istante però insomma vediamo non credo che riusciranno a raggiungere il play ne sarebbe un'impresa assurda e significerebbe che Morente sposta a livelli MVP visto che comunque è un tema che poi andremo ad affrontare però è possibile che succeda quindi sono curioso di vedere tra l'altro ti puntualizzo il figlio di Donci c'è una figlia che si chiama Gabriella da quello che deduco da Instagram e ti pongo però un interrogativo su questo perché si è fatto grandi polemiche sul fatto che Lebron avrebbe dichiarato che visto che Bronny James è abile a poter giocare agli University of South California lui ha detto la prima gara di Bronny se coincidono una gara dei Lakers io mi prendo permesso per così dire feria e me ne vado a vedere mio figlio grandi polemiche rispetto a questa cosa però quanto è diversa secondo te rispetto alla giusta ragione per cui Doncic non era in campo stanotte perché gli nasceva la figlia e lo stesso ha fatto Derek White recentemente e fanno più o meno tutti tutto sommato si tratta di un permesso familiare è una roba che ci sta a precedere da quanti soldi prendi e dal ruolo che ricopri in casa di James il figlio ha avuto un'esperienza quasi vicina alla morte o comunque così l'abbiamo percepita quindi il ritorno in campo è giusto anche che venga festeggiato non so come la vedi te no no ma sono d'accordo cioè a parte che se fossero se mancassero tre partite da giocare e ti giocassi il post playoff sarebbe un altro discorso probabilmente anche Lebron ti farebbe un altro discorso ma dal momento che sei così è un normale permesso lavorativo cioè sono professionisti se l'ha preso Derek White per la nascita del figlio Doncic per la nascita del figlio Kyrie Irving se li era presi per motivi suoi personali cioè alla fine sono le franchigie sono datori di lavoro ti pagano tu giocatore sei un dipendente di fatto hai i tuoi diritti e perché no cioè poi uno come Lebron che voglio dire può fare quel cazzo che gli pare alla fine tra l'altro il punto è che Lebron sarebbe anche uno di quelli pochi che potrebbero permettersi di fare load management senza richiami no perché ha un certo chilometraggio un certo minutaggio e una certa età cosa che non ha fatto ad oggi perché mi risulta sempre giocato comunque forse mi ha saltato una però ha giocato i back to back quindi avrebbe potuto anche fare a prescindere stare zitto l'ha voluta dichiarare però non ci vedo tutta questa grande elevata di scudi che è l'ennesimo pretesto per gli hater di James per infamare James senza ragioni anzi ti dirò di più secondo me è anche un bel messaggio cioè tra l'altro anzi ci vedo solo aspetti positivi ora siccome tu sai che io sono molto lontano dagli ambienti twitter ma presumo che sia twitter il punto in cui è stato più criticato cioè il problema è sempre quello cioè che la gente dietro a una tastiera e in forma anonima per la più può scrivere quel cazzo che gli pare ed è libera di farlo poi bisogna dare il giusto peso alle cose secondo me e comunque sono d'accordo con Lebron e anzi spero che a questo punto visto che uno che va per i 39 a 24 25 di media non salta una partita doveva giocare 25 minuti ne gioca 35 di media può giocare ancora diversi anni secondo me pazzesco pazzesco ma ci accorgeremo dell'impatto cioè del valore reale di questo giocatore solamente dopo che si sarà ritirato non c'è niente da fare secondo me non considerarlo allo stesso almeno sullo stesso piano di Jordan almeno sullo stesso piano guarda cioè io sono un tifoso di Jordan dal 91 ma il piano è già superiore ragazzi ma non c'è discussione non c'è un paragone secondo me con nessun altro sportivo professionistico storico mondiale per longevità per dominio questo hai detto te ha quasi 40 anni alla stagione 21 22 non lo so più ed è assurdo e non si può certo misurare tanto dalle vittorie i titoli vinti rispetto agli altri vale tanto altro vale le finali conquistate vale quanto ha elevato i livelli e i valori di squadra anche lo scorso anno gli scorsi playoff degli scorsi Lakers sono andati fin dove le broni ha portati ed era rotto e ha giocato rotto tra l'altro mi è piaciuto molto anche la rivendicazione di qualche notte fa di James quando ha detto molti dicevano che venivo a Los Angeles solo per fare i film per fare le pubblicità o per fare i film in realtà io gioco sul dolore gioco i back to back e faccio 30 25 e ho vinto 38 punti e ho vinto un titolo a Los Angeles che è sempre una cazzata perché poi anche lì gli hater lo fanno passare il titolo di Topolino anzitutto è il primo titolo dell'era Ginny Bass e credo sia il primo titolo di sempre con una owner donna nella storia dell'NBA credo però se ci pensi mi pare di averlo letto però credo che sia questo ed è già un valore e poi insomma ricordiamoci cos'erano i Lakers prima dell'arrivo di Lebron e anche se Lebron e l'AGM avesse forzato quella trade portando Anthony Davis che porta un titolo sarebbe comunque un valore sufficiente rispetto alla siccità di risultati di qualità di gioco che i Lakers avevano vissuto in precedenza e che gioco forza continuano a vivere seppur con James perché le squadre attorno a lui non sono funzionali che comunque meriterà di essere ricordato però credo che comunque c'è talmente tanta polarizzazione attorno a James che anche quando si sarà ridirato gli hater resteranno hater purtroppo perché non c'è oggettività non c'è oggettività se gli si critica ogni cosa incluso anche questa dichiarazione sul figlio che è legittima come hai detto però vabbè pace problemi loro problemi degli hater e a proposito di Lebron è stato messo al decimo posto dell'MVP Race pensa te decimo posto dell'MVP Race tornando verso l'alto così partiamo col discorso MVP Race abbiamo Anthony Edwards alla 9 e qui più che di Edwards bisognerebbe parlare del Defensive Player of the Year Rudy Gobert di nuovo perché è la miglior difesa insieme a Orlando per il momento ma comunque è una delle miglior difese è sicuramente la miglior difesa d'area e abbiamo visto che un Rudy Gobert con dei difensori perimetrali di un certo livello che aiuta non c'erano non c'erano ha un impatto difensivo devastante che è la stessa cosa che abbiamo detto di Brooke Lopez l'anno scorso quando c'erano Giruoli dei Grayson Allen quindi buoni difensori perimetrali ottimi e quando hai una buona difesa sul perimetro tu che sei dietro lì nel caso Rudy Gobert piuttosto che Brooke Lopez hai molte più possibilità di incidere il fatto di avere Jaden McDaniels il fatto di avere Anthony Edwards esatto ma anche Slowman non è un cattivo difensore insomma il fatto di avere comunque dei buoni difensori perimetrali rende Rudy Gobert ulteriormente efficace quindi la famosa presa di Rudy Gobert possiamo dire che sia stata buona non perché ci sia Carl Anthony Towns ma perché nel corso di questi anni abbiamo scoperto che Minnesota ha almeno un paio di difensori perimetrali che affiancati a Gobert la trasformano in una squadra difficilissima da affrontare quantomeno da un punto di vista difensivo di Minnesota e sai quando si è valutato la trade Gobert ai tempi troppe pic ok troppe pic va bene sì però poi troppe pic Gobert probabilmente ha un contratto voluminoso eccessivamente voluminoso gliel'hanno dato aiutano gliel'ha dato Minnesota Minnesota se lo è accollato però ci si domandava principalmente dove cazzo volevano andare i Timberwolves cioè qual era la loro idea e la loro idea la stiamo vedendo adesso però quella di avere una squadra che è piuttosto equilibrata è piuttosto funzionale e Gobert in quanto uno dei migliori ring protector di sempre secondo me di sicuro di questa epoca è la ciliegina sulla torta poi è chiaro che quando si parla di Gobert memory del periodo ai Jets si dice sempre sì poi vediamo com'è che lo scardinano in playoff però come dicevi giustamente te qua la situazione è nettamente differente come dicevi giustamente te due tre puntate fa una squadra che è tra le elite difensive della Lega pur con Towns e quindi riuscendo a nascondere le deficienze difensive o di voglia di Towns significa che ha tanti ottimi difensori da poter schierare a protezione di Towns e a supporto in questo caso di quelli che sono i limiti di un Gobert se è portato fuori hai citato giustamente McDaniels c'è Anthony Edwards che l'abbiamo già detto sta facendo una stagione quantomeno da all defensive e potenziali ma in una gara in settimana c'era titolare Alexander Walker non ricordo contro chi onestamente ha fatto una partita difensiva della Madonna per dire Nasrid che è l'abbiamo detto mille volte il backup potenziale di Towns perché con Gobert fitta bene è un altro buon difensore insomma il disegno dei Timberwolves che sembrava così astruso è un disegno che inizia a prendere forma e che ci regala una squadra che poi se andiamo a vedere i potenziali matchup non va sotto contro tante nella Western Conference cioè io ai playoff Denver Timberwolves è forse l'unica che ha qualcosa da contrapporre a Jokic forse è l'unica a Ovest che abbia qualcosa da contrapporre a Jokic forse i Suns sono la squadra che a livello di matchup così sulla carta tutti al completo Bill ancora non l'abbiamo praticamente visto potrebbero avere dei vantaggi contro i Timberwolves perché comunque potresti come si dice qui a carte impasciare Gobert con Nurkic d'accordo perlomeno in una metà campo però insomma Denver Nuggets che comunque quando li vedi in campo io vedevo anche la partita ieri sera ieri notte sono una squadra contro i Suns tra l'altro una squadra a tratti devastante sembra che non ci sia risposte all'attacco di Denver e manca però invece contro e manca Jamal Murray ancora e potrebbe essere però il grande interrogativo da più a fine stagione ma lo rivaluteremo se Jamal continuerà avere problemi però insomma mi ne so la timbre lo scontro Denver Nuggets è la meglio di sette partite secondo me sarà una serie molto 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 preoccupante pericolosa per i campioni in carica perché perché c'è queste peculiarità di squadra qua in quella di Minnesota e è tutto molto più chiaro rispetto a quello che è stato un investimento poi non so come sono messi a livello salariale e credo che comunque a fine anno dovranno decidersi se mettere seriamente o meno Towns sul mercato perché poi se andiamo comunque a valutare il roster è tutto è vero che Towns ti dà tanto in attacco ti allarga il campo ti dà perimetralità ti permette di poter tenere i due lunghi senza necessariamente intassare troppo l'aria come stiamo vedendo in questa stagione qua però è anche vero al contempo che da Towns sul mercato potresti prendere quello che ti serve in buona sostanza c'è un po' più di shooting e poi un sostituto in quella posizione che potrebbe essere un 4 versatile che magari non ha le caratteristiche di Towns ma che ugualmente è buono da schierare quindi il vero upgrade per me per i team per poter parlare di contender passa necessariamente dal decidere di scoppiare le due Twin Tower e chiaramente scoppi e metti sul mercato Towns secondo me però vediamo dove arrivano perché questa non è una squadra che chiaramente arriva al titolo però è una squadra che secondo me cioè se te li trovi in finale di conference magari si può gridare al miracolo però per come si sta venendo andare adesso se si mantiene su questa linea e quindi non ha infortuni ci può anche stare perché è la classica squadra che fa lo sgambetto alle grandi e anche alle grandissime nel caso di Denver quindi vediamo e tra l'altro siamo vicini diciamo alle 25 partite che di solito è la timeline per dare dei giudizi con cognizione di causa su come funzionano le varie squadre cioè se una squadra dopo 25 partite come Golden State è attorno al 50% va bene tutte le assenze ma evidentemente c'è qualcosa che non va stesso discorso per i Clippers cioè voglio dire da quando è arrivato Harden hanno un record negativo c'è poco da fare insomma non è che poi di punto in bianco funziona tutto all'improvviso funziona se fai come i Lakers l'anno scorso cioè a febbraio cambi tutto e hai il culo di trovare la stagione giusta da parte di tanti insomma comunque sì perché non è facile hai detto bene te ci vuole ci vuole il culo anche a far quello che hanno fatto i Lakers lo scorso anno tra l'altro per allacciarmi un attimo a questo discorso le 25 partite comunque occhio perché la settimana scorsa abbiamo parlato di Orlando Orlando sta continuando a vincere ha vinto la nuova partita consecutiva stavo contro stanotte che stiamo registrando al back to back a Brooklyn dovessero vincere sarebbero la decima però andate a vedere il calendario che hanno da metà dicembre a metà gennaio è tosta e dopo riparliamo però perché hanno praticamente le migliori squadre la Lega in trasferta prima Boston e Milwaukee poi vanno a Ovest dove incontrano tutte incontrano i Warriors incontrano i Suns incontrano Denver quindi insomma è vero 25 partite ti danno una direzione e si può parlare di Magic come sorpresa però non sono sufficienti perché rivalutiamoli a inizio febbraio Orlando Magic potrebbero entrare in un giro di schiaffi che magari ti trovi sotto il 50% secondo me già se a fine se a inizio febbraio si mantengono sul 50% di vittorie e beh allora abbiamo una squadra che può legittimamente sperare di arrivare a playoff senza passare al play-in però insomma c'è anche i calendari da valutare noi non lo facciamo quasi mai perché è uno sbatti e magari poi viviamo giorno per giorno noi in questo podcast almeno poi ci sono altri che fanno le teorie però insomma ecco 25 partiti ok però poi anche attenzione a quella che è la schedule come si dice la schedule la schedule schedule e tornando su Kevin Durant alla 8 che sta mettendo statistiche incredibili ma io continuo a dire Booker è di nuovo out due sconfitte consecutive per il Phoenix Suns Booker torna sei vittorie consecutive ora Durant può mettere tutte le cifre che vuole ma per l'ennesima volta siamo qui a dire che sono cifre che non bastano cioè non bastano le cifre più che altro evidentemente o è casualità o è tutta casualità oppure evidentemente il leader conclamato lì non è lui lui è lì e come non lo era a Oklahoma City come non lo era ai Warriors come probabilmente non lo era a Brooklyn insieme ad altri due che non sono in grado di esserlo però diciamo che poi non ha attorno la squadra più funzionale possibile se deve essere lui la unica punta lui KD per essere unica punta poi all'età che ha con lo storico recente anche che ha avuto insomma non è proprio la condizione ideale soprattutto per sperare di essere forte in forma di off è difficile criticare uno che sta andando a oltre 30 quasi 10 assist 50% da 3 cioè però i risultati sono lì cioè manca Booker e Phoenix perde rientra Booker e Phoenix vince anche senza Durant io però ho paura che il problema di tutto questo sia Bill perché questa squadra attorno a Durant e Booker era una squadra che poteva e che può essere la migliore della Lega secondo me ancora però se c'è Bradley Bill perché è comunque strutturata per questi tre super attaccanti contemporaneamente in campo quello non c'è mai e ancora non l'abbiamo visto tutte e tre insieme e si rischia secondo me di seguire il copione dello scorso anno dal momento che arrivò Durant è una metà stagione questo è iniziato dall'inizio ma è un casino se non riescono a prendere un attimino di abitudine fra sé e con il resto del gruppo che ripeto è un resto del gruppo strutturato per essere sostenibile se quei tre stanno in campo non se c'è il solo Durant non so se c'è il solo Booker che è inevitabile anche per carta identità ma anche per potenzialità attuali è un giocatore più importante di KDV per tutto sommato fa e disfa la squadra fa pentole e coperchi è lui che porta la palla è lui che crea è lui che dà l'assist è lui che segna KD è un attimino più solo scorer e creator per sé stesso non è poco ci mancherebbe altro anzi è uno dei migliori di sempre se non il migliore di sempre proprio come purezza però nel senso è normale che l'ago nella bilancia sia in questo momento Booker però ancora più secondo me è Bill che ragazzi che cazzo ha Bradley Bill cioè io non lo so a questo punto bisogna farsi delle grosse domande e poi un'altra domanda invece serie che ti faccio quanto resta fuori Booker perché per l'inseason torna mentre c'è Suns e Lakers a questo punto preferisco che non ci sia perché se durante non vincolo io voglio vincere non ti so dire non ho guardato che cosa abbia Booker perché è rientrato ha giocato una serie di partite sto cercando anch'io mentre lo dicevi ma non ho trovato niente sui status vediamo te lo dico subito Sports Illustrated Fox Park Devin Booker Ingeristà Ankle Injury quindi problema alla caviglia però vabbè beh anche se non è al 100% contro i Lakers per noi Lakers va bene lo stesso ci mancherebbe altro però insomma ecco il problema è che venerà in da età perché ID è diventato decimo marcatore all time giusto ieri notte quindi ci mancherebbe altro si merita tutti gli applausi che si merita però per decisività con quel gruppo là è chiaro che serve altro non è più l'epoca e forse non lo è mai stato come dicevi del KD solo al comando che trascena una squadra anche di purtroppo non lo ha mai fatto non è Lebron per ritornare a James anche ai Thunder anche nella parte finale aveva bisogno di un Westbrook comunque in grande spolvero per poter arrivare dove quasi erano arrivati prima che poi decidesse di fare il salto nella quaglia e andare dagli avversari dei Warriors a vice di titolo poi risalendo la china alla 7 Jason Tatum in discesa che è stato espulso questa notte gran nervosismo in quel di Boston dopo l'H Dramond di cui abbiamo parlato dichiarazioni di Jalen Brown contro diciamo la scelta dello staff del suo allenatore espulsione questa notte di Tatum gli infortuni di Holiday e Porzingis eh iniziano a scricchiolicchiare e vediamo come usciranno da questo da questo momento insomma poi hanno vinto lo stesso contro dei 76ers senza Embiid senza Maxi eh pur all'ultimo insomma però Tatum è sceso Tatum è sceso e secondo me più mancherà Porzingis più rischia di scendere perché comunque l'abbiamo già detto no il valore che dava Porzingis all'attacco alla Mazzulla Offense a livello di spacing e di movimenti delle difese avversarie valore che poi era un beneficio per Tatum e comunque si trovava altri spazi e senza Porzingis è un attimo più macchinosa la faccenda per cui insomma vediamo poi è un classico di Tatum eh comunque magari fa delle grandi stagioni però sono un po' leggermente montagne russe era partito strabene e ora è è un po' in down e chi è partito strabene e adesso è in down uguale sono gli Indiana Pacers ecco a Liburton e alla 6 l'Indiana Pacers io l'avevo detto con gli attacchi sì tutto molto bello ma arriverà il momento in cui gli altri faranno sempre un punto in più di te perché magari difenderanno meglio di te e in questo momento i Pacers sono crollati al settimo posto sempre con un record positivo 9 vinto 8 perse nella Eastern Conference tallonati da Cleveland Atlanta Brooklyn insomma quindi gli Indiana Pacers scendono si riassestano dove secondo me è il giusto piano per quelle che sono le loro la loro qualità di squadra le loro caratteristiche e a questo punto di nuovo Turner e Yield che cacchio fanno in una squadra che non fa i playoff ma soprattutto con uno come Miles Turner essere la peggior difesa o una delle peggiori difese all'NBA è dura nel senso tornerà alla fine ti dà dei grandi valori poi magari si è un po' adagiato anche lui in un sistema che è veramente bizzarre un testa coda è il migliore attacco della Lega forse con migliore efficienza offensiva di sempre sul momento o quanto uno lo era qualche giorno fa è la peggior difesa cioè come fa una squadra ad essere contemporaneamente migliore attacchi che cos'è sono gli allen l'Eler Drone Potter perché è l'All-Star Game è quello e non vai avanti però in questa maniera qua cioè puoi essere il regular season è più funzionale soprattutto a fase di essere miglior difesa di attacco macchinoso vedi i Magic vedi i Celtics di Udo eccetera che viceversa e quindi questo è chiaramente una roba che alla lunga pagano però ci sta una squadra così giovane così inesperta che magari ha un regista così fantasioso così estroso che rende l'offesa divertente in difesa non ci vuole giocare nessuno perché aspettano tutti di ripartire di là in contropiede o comunque di attaccare in transizione o semi-transizione e poi nessuno difende ci sta fuori gioco io Turner ai Lakers lo prendo subito quindi vieni pure però secondo me funziona da tutte le parti l'abbiamo già detto insomma lo diciamo tutte le puntate quindi è un tormentone ma il Turner ovunque è un po' come Mazzulla sono i tormentoni nostri resterà lì non si muove Phoenix Phoenix è lì che attende Phoenix è lì che attende poi risalendo di nuovo abbiamo Yannis alla 5 con i Bucks che non riescono a fare lo strappo definitivo cioè sono comunque terzi dietro a Boston Orlando a Est ma gioco offensivo latitante difesa qualcosina si sta aggiustando ma diciamo che l'anno scorso e gli ultimi anni con Olida era un'altra cosa sono ormai 19 partite Milwaukee 13 vinte va detto e 6 perse però ti danno comunque l'impressione di poter sì vincere sempre qualsiasi partita perché poi hanno quei due lì soprattutto in season tournament come dicevi te e soprattutto a scontro diretto ma se non metti insieme un gioco a due di spessore lì l'attacco è veramente molto macchinoso poi magari le vinci lo stesso però poi magari perdi contro i Chicago Bulls senza la vine e le rose e tra l'altro lo dicevi te prima in relazione a Gobert e facevi il paragone con Lopez lo scorso anno Lopez con una difesa perimetrale di alto livello e con la possibilità di avere poi un elite come Giannis in aiuto fatto una stagione da quasi defensive pair of the year quest'anno ragazzi dura fatica anche lui perché la difesa in prima linea è agghiacciante i limiti di Lillard difensivi li conoscevamo ma visti in un contesto dove si chiede un qualcosina di più fanno ancora più impressione io visto che dicevo dicevo prima di quell'azione dove hanno preso la tripla di Caruso vi invito ad andare a riguardarla e a vedere che non c'è un piano difensivo ma soprattutto il cambio non cambio che attraverso l'attacco dei Bulls fanno difensivamente la coppia Lillard e Bisley è una roba vergognosa e da lì poi si genera la tripla di Caruso che da ultimo se la prende se non erro in faccia a Lopez che è costretto ad uscire però si vede che difensivamente sulla palla sono veramente inquietanti a me è una squadra che non convince per niente poi ho detto bene te va avanti per inerzia per i talenti singoli perché Giannis è fenomenale ci sta che sia sempre in cinquina potenziale per l'NVP perché Lillard è Lillard però una squadra che difensivamente ha perso tantissimo anzi non esiste secondo me c'è il playoff è una squadra che te scardini come vuoi se resta in questo modo che offensivamente non c'è fit non c'è fit quindi boh per me non è cioè faranno 50 e passa vittoria ci mancherebbe altro ma se restano questi se il coach non riesce a allenare un po' a lavorarci un attimo boh una squadra che rischia di deludere tanto rispetto alle aspettative elevatissime è quello era l'IPE elevatissimo mi fermo qua prima di andare alla top 4 perché parlando di Milwaukee Bucks non si può non parlare di Miami Heat perché negli ultimi 26 anni credo che l'accoppiamento playoff sia sempre stato quello e allora ti butto lì una provocazione visto che Wemby beh adesso sta crescendo c'è Tolmgren è buono però chi sta mettendo delle statistiche paurose ahimè Hakes cazzo e vuoi non considerarlo per il rookie of the year Miller di Charlotte non se lo considera nessuno continuiamo a dirlo perché è bellissimo non sta facendo male ma non se lo caga veramente un cane però effettivamente secondo me Hakes in questo momento ma lo stanno dicendo tutti è il terzo ti dico è andato in doppia cifra in tutte le partite da un certo punto in poi in sostanza nelle ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha fatto 19, 22, 15 18, 14 e 24 gioca più di 30 minuti a partita anche perché a Miami sai che diciamo durante l'anno si riposano tutti costantemente c'è bisogno sempre esatto classica regular season di Miami cioè fa giocare tutti e fa riposare Jimmy Butler che poi i playoff gli fa vincere le serie però insomma l'impatto è notevole notevole in una squadra in una squadra complessa poi perché me ne avevi parlato bene te tra l'altro che quando si parlava delle ipotesi pacchetto Lillard Hackett era chiaramente un apparente determinante io ero scettico me ne parlava bene il Prat ne ho sentito parlare benissimo da bandi su The N1 Podcast effettivamente mi piego all'evidenza questo ragazzo che è pronto ha fatto la sua esperienza al college lo si diceva che aveva questo valore ma è capito è che è perfetto per quel sistema là ora non so se ti ricordi Chris Duarte il rookie di Indiana che apparve prontissimo e poi è andato sostanzialmente a scemare cioè non aveva questo grande margine di crescita effettivamente non è cresciuto adesso è sacramento rotazione magari il rischio potenziale è quello non che faccia la fine di Duarte comunque si vede che a livello di talento c'è un abisso che è chiaramente superiore però che magari essendo matura avendo fatto quattro anni al college non abbia poi troppi margini di miglioramento potenziali ma sfrutti il fatto di poter essere pronto prima di altri per esperienziare fatto sta che sta facendo una super stagione che agli hit è quello che serviva serve anche altro a Miami ad esempio un po' di playmaking una point guard perché quelli anni mi sembra un po' andata però insomma intanto questo l'hanno preso stra bene cioè sai quanti lo potevano prendere a Kez Rima e che gli avrebbe fatto comodo visto come come è sceso al draft wow un botto quindi insomma il solito furto di Pat ma non furto furto per intelligenza e il solito spostra che questi ingredientacci quali cucina perfettamente e mette in campo il piatto da 10 insomma Miami Heat che attualmente sono sesti tra l'altro si sta già creando in realtà un piccolo scalino tra il sesto e il settimo posto e giù nella Easter Conference è chiaro che insomma siamo ancora all'inizio però diciamo che i valori delle prime sei sembrano essere superiori al valore di tutte le altre cioè parlo di Boston Orlando da vedere che è la vera veramente la vera scheggia che è lì al posto di Cleveland dal mio punto di vista Bucks Sixers Knicks e Miami Heat sono le prime sei a est e dopo ci sono i Pacers i Cavs gli Hawks i Nets Toronto Charlotte vediamo e poi in fondo in fondo i nostri bei Pistons ma ancora prima gli Washington Wizards del Gallo mamma mia per i Wizards e no per il povero Gallo ho letto ho letto dichiarazioni di Kuzma dicendo che ci non difendiamo neanche contro un comodino in sostanza ha detto si ho capito Kyle però se non lo fai tu per primo fallo inizia a fare ma chi me lo fa fare dice giusto se non difende nessuno perché devo rompermi coglioni infatti ho visto controllandolo il vero leader esatto è partito bene in attacco ma lì si fa chi segna di più tanto si parte dal presupposto e si perde per forza comunque breve postilla Cavaliers per queste prime 20-25 partite sono delusione quantomeno nella Eastern Conference abbastanza roboante ma anche a livello NBA che hai visto giocare molto male mi aspettavo molto 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 meglio sì sì sono d'accordo li avevo messi molto in alto in regular season perché secondo me era una di quelle squadre che rispetto all'anno scorso avrebbe dovuto dare qualcosa in più soprattutto in regular season 10-9 persa al momento e insomma siamo a un quarto di stagione regolare è quello che dicevamo prima cioè se dopo 20 partite il tuo record è questo è difficile che poi tu a fine anno riesca a dar la svolta a meno che non cambi tutto come i Lakers o due anni fa con l'arrivo di Udoca con una chiara impronta difensiva la stagione è svoltata perché perché si è data quell'impronta difensiva e Boston che era attorno all'ottavo nono posto in quel momento è arrivata in finale NBA e quindi insomma vediamo o arriva uno stimolo improvviso che non è il tuo di Las Vegas ma deve essere uno stimolo esterno notevole oppure Donovan Mitchell potrebbe anche fare delle scelte diverse da Cleveland però vedi per pensare un secondo sui Cavaliers visto che se ne diceva che probabilmente la cosa migliore era mettere sul mercato Jarrett Allen scoppiandolo con Mobley e completare adesso però abbiamo visto che Jarrett Allen è importante perché questa squadra renda bene è importante per Mobley anche però se non puoi mettere sul mercato Jarrett Allen e non hai sostanzialmente nessun altro appetibile che mosse fai rischi di perdere Mitchell in estate perché Mitchell già insomma l'aveva minacciato e molto probabilmente chiedrà di essere giù Mitchell a Miami gli dai Tyler Irro gli dai Duncan Robinson Huckett gli dai anche Huckett tanto sta facendo bene Irro e Jaime Huckett no è troppo Irro Duncan Robinson 2-3 pick 2 pick ti prendi Donovan Mitchell fai Lauri Mitchell Butler Huckett Olov e Adebayo sarebbe quello scorer di cui ha bisogno ovviamente scorrere non solo perché insomma è anche un buon creator negli ultimi anni Mitchell è cresciuto molto e difensivamente sarebbe coperto dal sistema storico difensivo di Miami quindi neanche avrebbe grossi danni visto che è un po' sottodimensionato farebbe grossi danni e chissà però insomma Cavaliers se non muovi Allen perdi Mitchell in prospettiva per cui tanto vale muovere Mitchell su lo lanciamo così ecco muoviamo Mitchell torniamo all'MVP Race primi quattro posti al quarto posto Shea Gilgis Alexander con degli Oklahoma City Thunder che sono terzi attualmente nella Western Conference vera squadra del futuro non solo perché il presente è già roseo ma perché hanno 26 milioni di pick nei prossimi 3-4 draft e quindi una marea di asset da poter investire per chiunque vogliano e che dire presti deve soltanto pregare che non mettono in galera Ghiddi così tipo ma si lo scambia Ghiddi è un tot di pick tanto le ha e ha anche altri giovani che tanto non giocano perché sono in fondo ai rotazioni di un roster profondo di talento e questi Thunder sono chiaramente il super team del futuro già fatto le superstars sono lì e la più brillante è chiaramente Shea che insomma non si scopre niente di nuovo l'abbiamo visto l'anno scorso l'abbiamo visto i mondiali e ci sta è un giocatore impressionante Shea Ghiddis Alexander è un giocatore impressionante io diciamo negli ultimi anni riuscire ho due giocatori che secondo me hanno fatto uno step verso veramente l'onnipotenza clamorosa una ne abbiamo parlato prima che è Devin Booker secondo me che con Chris Paul è cresciuto proprio vertiginosamente non so se sia merito di Chris Paul o banalmente se sarebbe successa la stessa cosa anche senza di lui l'altro è Shea Ghiddis Alexander che ricordiamo essere arrivato a Oklahoma City nel pacchetto di Paul George oltre a Shea sono arrivati i Gallinari una marea di pick dei Clippers futuri e questo è stato senza dubbio l'affare degli ultimi dieci anni tra l'altro se non vado in raso perché l'avevo letto ma non voglio dire una cazzata quindi verificate una delle picche arrivate è diventata J-Dub che è un altro dei potenziali fenomeni del domani l'altro è già dell'oggi per i tanti quando noi dicevamo prima la trade qualcuno diceva uno dei peggiori trade di sempre ma insomma la trade George per i Clippers se la guardiamo in prospettiva adesso è un altro da prendersi a coltellate da soli voglio dire quantomeno a coltellate brutta come metafora fare come metafazzi darsi le bottigliate nelle palle perché insomma cosa avevi in casa cosa avevi in casa ma ma che cosa aspetta aspetta sei stato obbligato a farlo perché sennò Hawaii non veniva è per sempre colpa di Hawaii è uno di cioè la serp è un'eminenza grigio pessima esatto spesso non ricordata ma quando gli si dà di serpente addurente ma che Leonardo non è da meno e quindi con Shea alla 4 abbiamo Donchich il neopapà alla 3 abbiamo visto i Dallas Mevs con Donchich e senza Donchich che differenza ci sia con buona pace i Kyrie Irving Dallas Mevs che sono quarti erano partiti forti stanno rallentando 5-25 persa nelle ultime 10 e secondo me sono destinati comunque pian pianino a calare perché è una squadra che l'anno scorso non girava che ha iniziato quest'anno con un ritmo di gioco più alto perché ha aumentato notevolmente il pace con cui vanno a cui vanno però è una squadra che totalmente dipendente da Luca Donchich che va anche bene se vuoi però siamo sempre lì però siamo sempre lì né carne né pesce e probabilmente la domanda è attacco stellare Donchich Kyrie per corto stellare offensivamente chi è il terzo miglior giocatore di Dallas Tim Hardaway Junior ecco e allora capito tutto ragazzi è inutile pensare come fai ad andare avanti serve non star power perché non è una faccenda di star power non necessariamente il terzo miglior giocatore di una squadra deve essere una stella e però serve un giocatore che sia con tutto il rispetto per Tim Hardaway Junior che sta facendo una bella stagione che secondo me se non lo cedi neanche dopo questo buon avvio di stagione non lo cedi più non te lo liberi più fin quando non scade però serve un qualcos'altro perché bravo Derrick Jones Junior un mio protetto però non puoi comunque pensare di far strada a livello di post season con Tim Hardaway Junior che è il tuo sesto uomo Derrick Jones Junior che ti fa la differenza in quintetto alternandosi con Josh Green Grant Williams il centro va benissimo Ruki si farà si sta facendo sta facendo anche troppo Lively però è sempre un ragazzo è acerbo insomma dovrebbero muovere dovrebbero muovere e conoscendo a parte conoscendo Cuban adesso sta accedendo esatto 3 miliardi e mezzo esatto sta signora qua che è mega impelagata con il sistema casino ho letto delle storie incredibili però non voglio dire perché poi magari li faccio in azioni che non sono che non sono supportate però insomma non è neanche più Cuban anche se dovrebbe comunque mantenere il controllo delle operazioni insomma conoscendo Cuban secondo me ci prova a muoversi anche perché se è come lo scorso anno Donchic a un certo punto appena gli passa la sbornina dell'amore per la figlia appena nata busserà alla porta come bussò lo scorso anno per chiedere Kairi perché se no è un altro anno buttato questo qua perché non passa il primo turno onestamente secondo me è molto difficile molto difficile poi ci sono loro due sempre loro due Embiid alla due e Nikola Jokic alla uno Embiid lo vedo molto meglio rispetto all'epoca Arden rispetto all'epoca Simons cioè Simons eh vedi te l'hai ridimenticata e te lo dimentichi Simons c'è questo mal di schiena ancora incredibile esatto Embiid è realmente dominante realmente dominante offensivamente è chiaro che può stare antipatico quanto vuoi perché tira 15 16 liberi a partita però se non è una caratteristica è effettivamente efficienza questa roba qui tralasciando quello anche Philadelphia va a un ritmo molto più alto Maxi è il Mip al momento secondo me lo vincerà a fine stagione perché non vedo nessun altro tra i papabili Mip che potevano essere Michael Bridges poteva essere Jordan Poole pensa te poteva essere che ne so Kate Cunningham tanti altri insomma secondo me Maxi non ha rivali per questa stagione per il Mip dall'altra parte c'è Jokic con i Denver Nuggets che sono secondi a Ovest che danno l'impressione di star vivacchiando cioè arrivano a fine stagione loro tranquilli dopo un periodo dopo l'infortunio di Jamal Murray di sofferenza hanno ritrovato equilibrio è una squadra che ha un'impronta chiara hanno vinto contro i Clippers giocando con Reggie Jackson di Andre Jordan e tra l'altro una grande prestazione di Andre Jordan da 24 e 13 rimbalzi una roba contro i Clippers quindi Reggie Jackson e di Andre Jordan due ex Clippers che vincono con i Clippers però l'impressione è che se hanno l'opportunità se hanno qualcuno con qualche fastidietto lo lasciano fermo senza problemi se hanno non hanno intenzione di forzare rientri di affrettare i tempi tanto finché Jokic c'è questi ai playoff ci arrivano proprio in carrozza in carrozza anche perché la Western Conference questa è una domanda a provocazione che ti faccio forse l'abbiamo sopravvalutata i grandi vecchi hanno ancora l'impatto che noi pensiamo abbiano perché andando a vedere la classifica i Lakers 7 i Suns 6 Warriors 10 i Clippers 11 e lo so però Franz devi calcolare i grandi vecchi è già tanto se stanno in campo con l'efficienza che portano è il supporto dei grandi vecchi che però vuoi per gli infortuni vuoi per l'essenza vuoi per degli equilibri non si sono creati manca cioè il problema dei Suns è il problema dei Lakers perché comunque Ham sembra uno che prova tutto il contrario di tutto però il roster al completo ancora non l'ha mai avuto insomma quindi nei tentativi anche di rotazione che non ha sviluppato quello che probabilmente nella sua testa se c'è non lo so perché mi sembra anche molto in confusione ogni tanto esce anche la spazzatura la spazzatura la spazzatura esatto c'è anche il bozzolo sta tentando di uscire dalla sua testa le idee l'idea deve uscire non riesce uscirà da sé capito è una roba per l'altra parte bruttissima però insomma i Warriors uguale nel senso hanno avuto il problema green secondo me c'è un problema proprio di costruzione di roster dovuto all'arrivo di Chris Paul per le dimensioni ho già detto ma vedremo poi alla lunga e infatti chi va bene va bene chi regola il season è un po' più fresco un po' più giovane vedi Sacramento Kings è una squadra che onestamente mi stupisce vedi ok sì e vedi i Denver Nuggets che io odio lo dico proprio così il totale è una squadra più brutta e antipatica da vedere perché non perché non sbaglia mai 5 giocatori messi in campo ed è anche facile metterli in campo perché c'è quello lì perché se non ci fosse l'ho detto anche l'anno scorso se ci fosse Embiid che è strepitoso come hai detto te in questa stagione al posto di Jokic questa squadra non sarebbe così facile da mettere in campo bene come vi ha messo in campo da Malone quindi bisognerebbe anche ridiscutere tanto il coaching di Malone che è un ottimo coaching però non da visionario perché è facile con l'onnipotenza di Jokic e con cosa ti crea Jokic per gli altri non so io un giocatore che odio che mi sta sui coglioni perché è perfetto è impossibile non è scientifico che un giocatore con quella stazza lì con quella fisicità lì e non dico non è in positivo quello che sto dicendo con quella con quella flemma lì d'accordo che non significa abbracciare le teorie della giornata tipo non gliene frega un cazzo non è vero niente si vede che è un agonista e che chiaramente vuole vincere ma ha comunque quella flemma ed è impossibile pensare lo valutavo poche ore fa che stavo guardando la gara contro Phoenix un giocatore con quella flemma non lo fermi è impossibile i super uomini super fisici super atleti nessuno è in grado di fermare un cuciolone in quel corpo lì con quella flemma lì è veramente odioso da quanto è forte così come sono odiosi i nuggets nella gara in cui è rientrato Jamal Murray poi è ritornato fuori non so esattamente il perché una squadra da prendere sparare a uno per uno dei cinque in campo perché cazzo tiravano da nove metri e trovavano il canestro garantito ogni volta semplicemente perché quel sistema è perfetto e perché con due tre metri di spazio è uno che te la mette ha fatto tipo un canestro da metà campo allo scadere dei 24 di un'altra partita una roba assurda cioè io i nuggets sono una squadra che veramente non sopporto mi auguro che i wolves come dicevo prima li trovino al primo turno e li spazzino via li mandino a casa perché altrimenti questa è una squadra che se passa al primo turno è in grana perché come dici te si stanno gestendo dopo in serenità con cinque giocatori in croce cinque se stanno tutti bene vincolo il titolo in carrozza anche quest'anno a me questa roba sta sui coglioni lo dico proprio pubblicamente tanto i tifosi dei nuggets già lo sanno infatti non gli sto simpatico in me adesso mi tolgo la maschera e quindi non ti dico che sono contento se so che Murray è al 50% però godo da un certo punto di vista perché sono curioso di vederli con uno in meno perché secondo me già uno in meno di quel quintetto rende la squadra meno forte il problema però è che tra l'altro il buon tempone con quella flemma là il simpaticone il sagoma che va a giocare ai cavalli non si rompe mai non si fa mai male esatto porca miseria è fuori forma non è atletico e tutte le volte non gliene frega un cacchio parte da fuori aria fa una penetrazione sembra che si possa rompere da un momento all'altro perché è grosso e non si rompe mai non perde mai una partita e allora che si deve fare e comunque a parte le battute però valutavo proprio il vedere questa partita ma dove te aver contro Phoenix cioè è andata più 10 e se è mantenuta più 10 più o meno per tutta la partita quando Phoenix è ritornato a pari in tre balletti l'hanno ributtati sotto c'è un'onipotenza totale e bisogna però pensare che Jokic è già da annoverare in questo momento qua tra i migliori centri sempre ma serenamente e non è possibile non dargli l'MVP se non si rompe perché lui se non si rompe continua su questo ritmo per tutta la stagione perché tanto oramai è questo è quattro anni è tre anni che fa così e è increscendo anche rispetto alla scorsa e rispetto a quelle due anni fa quindi se andiamo a vedere le statistiche avanzate è fuori di testa dei valori mai visti non glielo puoi non dare io non so come faranno quest'anno cosa si inventeranno però glielo devono dare non c'è verso speriamo che non glielo diano perché si rompe battuta ci mancherebbe altro ma perché altrimenti se no questi vincono il back to back ma senza problemi capito a me stanno sui coglioni e quindi tipo tifo contro Denver tifo contro Denver perché sono tremendamente più forti di tutti gli altri e il bello è che riconosco la superiorità ecco diciamo Malone magari boh da vederlo in altri contesti per carità però questo contesto alla fine ha creato lui cioè credendo credendo in Jokic in quelle vesti dando il massimo a Michael Porter Jr prendendo Aaron Gordon quindi insomma c'è poco da fare effettivamente la faccenda più nitida per cui Malone con merito sboroneggia come ha sboroneggiato dopo aver vinto il titolo con la collana e tutte le prese di culo e le Ikerz eccetera è quella che effettivamente è lì da tempo ed è lui che ha creduto in questa roba anni fa e adesso se la trova in mano ed è una macchina devastante 5 giocatori in croce 5 in croce perché ora che cazzo hanno fatto a tirar fuori Reggie Jackson l'anno scorso Diobono non l'hanno messo in campo mai che è arrivato a metà stagione stanno stagendo una stagione senza senso e sono curioso di vedere perché poi è capace ai playoff lo rimette di far giocare 0 minuti anche quest'anno qua per l'altro gli ne basta 5 lui gioca con 5 giocatori è incredibile sì sì è pazzesco però se hai quello lì che ha quel tipo di onnipotenza lì puoi giocargli accanto quel tipo di onnipotenza senza essere quel giocatore che ha bisogno o voglia di mettere statistiche cioè lui è assurdo è veramente l'anti superstar che però è più superstar di chiunque altro da un punto di vista proprio di tecnico ma anche cioè Embiid d'accordo fisicamente è nettamente superiore anche per prestanza malgrado sia sempre lì a rompersi pure lui rispetto a gran parte dei pari ruoli con cui gioca ma andiamo a ritroso pensiamo a Sheck pensiamo a David Robinson cioè Tim Duncan cioè anche se Tim Duncan poi è un 4 al solito io lo valuto come 5 un Patrick Ewing cioè i 5 che sono dominatori e che possono stare nella discussione tra i migliori centri di sempre insieme a Will Chamberlain e Karim Abdul Jamal mettiamola così sono tutti giocatori che comunque hanno un tipo di flemma ma di prestanza fisica completamente opposta rispetto a quella di Jokic ed è assurdo che Jokic possa portare dei numeri simili con una continuità simile con quel con quel corpo lì e con quella forma lì che non cioè quindi è tecnicamente mille volte superiore al migliore di loro e questa è la cosa che viene da dire perché non lo non è una faccenda fisica ma è grosso lo sposti male ma non è una faccenda muscolare qua non è una faccenda atletica è una faccenda atletica di pura tecnica da da bello imbolsito come sei quello è batti 10 a 0 in qualsiasi pariruolo che da un punto di vista atletico e fisico in teoria ti dovrebbe mangiare in testa ti dovrebbe stoppare ogni tiro e non ce la fa è questa la grandezza di Jokic è impressionante quindi per me è serenamente top 5 ma top 3 centri all time mi dispiace dirlo perché manchi di rispetto a tanti grandi del passato però io in tutta onestà se prima top 3 centri all time ci metto Jabbar Chamberlain e Shaq uno di questi tre deve andare fuori perché ci sta Jokic già dentro adesso che non sai quanti titoli potrà vincere ancora sia a livello personale che a livello di squadra da qui a che si ritira e forse non si ritirerà neanche tra tantissimo perché non è detto che abbia voglia o insomma viene forta veramente vero Terrence Ross così chiediamo anche il cerchio di questa puntata scusate lo sfogo ma io credo i tifosi di Denver ai quali starò sui coglioni anche perché poi sono molto permalosi i tifosi di Denver ho avuto modo di vedere ci capiranno comunque che dietro a questo mio astio e questo mio disprezzo e questo mio c'è l'onipotenza eh no c'è il rispetto perché oggettivamente si si dato un dato dall'onnipotenza per questa roba qua di cui abbiamo parlato è che non ce la facevo più e dall'anno scorso c'era in gola esatto esatto bravo sfogati e siccome ho già visto che non fallirà perché sai se avessi vedessi un minimo di luce di un potere stare qui a fare un po' la domandina a fare il simpatia invece ho già visto che nulla e quindi mi espongo sfogati quindi la mia frustrazione è qui registrata on record on record per questa puntata numero 27 che è giunta al termine e non abbiamo parlato di Clay Thompson che era uno dei il titolo teniamocelo per la settimana prossima Clay Thompson con cattore finito oh là ci ho sempre sperato io ma mi sa che c'è verso non c'è verso allora abbiamo chiuso questa puntata 27 il hashtag l'abbiamo dato all'inizio rinnovo ovviamente ringraziamenti per questo anno e mezzo insomma anno e qualcosa di podcast che ci ha portati fissi in sostanza nella top 200 con ogni episodio che esce top 200 italiana del podcast di tutti i podcast almeno su Spotify e insomma ci stiamo facendo pubblicità perché noi siamo puttani e dobbiamo venderci per tirare dentro qualche sponsor signori dateci qualche sponsor così possiamo magari pagare qualcuno per farci degli shorts da mettere da qualche parte su tiktok da qualche parte o se qualcuno di voi vuole produrre a titolo gratuito qualcosa siamo qua fatevi avanti ma cazzo ma l'internet è pieno di freebooter dove cazzo siete freebooter maledetti perché nessuno tutti vogliono i soldi se si tratta di noi tutti vogliono i soldi se invece c'è da andare che ne so da chi ce li ha i soldi si propone a gratis capito è quello che è è il riferimento al mondo al contrario no 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 sai mai magari ci arriva qualche sponsor da lì no 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 ragazzi siamo siamo a caccia di sponsor avete una piccola impresa sapete le tv quelle regionali no avete una piccola attività volete essere sponsorizzati all'interno di un podcast che fa dei numeri che neanche vi diciamo per proprio per pudore noi non dobbiamo dire i numeri noi dobbiamo dire quando è il 650% di crescita rispetto allo zero dell'anno scorso è buono il trucco è sì che ci dobbiamo vendere tipo signor redbull ma noi abbiamo un podcast 700% di crescita non c'eravamo tutto nella norma va bene Tore grazie mille puntata in archivio numero 27 uscirà anzi è uscita perché ci ascolta lunedì 4 credo sia alle 7 del mattino youtube spotify apple podcast google podcast preaker deezer e chi più ne ha più ne metta e siamo sempre qua siamo sempre qua tra un acciacco e l'altro in attesa dell'antimalware speriamo speriamo almeno quello insomma ci aiuta a riprenderci un po io sento la malattia che sta salendo anche questa settimana un po' di mal di gola insomma e quindi nulla amici sarà una settimana di merda è già ma ve lo avevo buon lunedì di merda per voi sicuramente per noi anche se stiamo registrando di sabato però insomma è facile far previsioni e quindi niente alle raga e ci vediamo alla prossima volta ci sentiamo ci ascoltiamo insomma fate come cazzo vi pare ola come al solito signori buona giornata a tutti da tree and drink il podcast con la birretta in mano alle raga alle raga ciao